ma si in fondo era un bravo picciotto peccato sia finita così peccato un vero peccato mi dispiace molto ma veramente molto era un bravo picciotto tutto sommato ma dai su quando uno poi dopo non c'è più si dice sempre così aveva anche lui i suoi difettucci no difettucci tanta roba c'aveva che non andava sto picciotto un santo era un santo era veramente un santo una santa persona normale come tanti altri però dai peccato ci sapeva fare tutto sommato male era proprio un bravo bagai un bravo ragazzo veramente veramente ma molto ma molto bravo non sapremo mai che cos'era veramente sappiamo solo una cosa di certo capiterà a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti